Per mesi si spertica con appostamenti, individuazioni, segnali, indicazioni. E' la storia della nostra istituzione da sempre, leggendo un po' di Leo Luca Bagarella che ha benedetto questa cosca in tempi non sospetti, mi ha ricordato anche un po' la mia partecipazione alla Criminal Polo negli anni Ottanta. Non è cambiato nulla, l'impegno è sempre lo stesso. Oggi esprimiamo grande soddisfazione, la Polizia di Stato ha acquisito oggi un vero colpo per la Sicilia, dico per la Sicilia in questo senso. E' veramente un successo che, come ha detto il Procuratore Salvi, non fa altro che aprire un ulteriore scenario perché la storia ci dice che purtroppo queste cose vanno avanti, quindi adesso dobbiamo capire bene con attenzione come si ricolloca tutta la situazione, però ecco siamo pronti e siamo consapevoli che l'attività ancora è lunga anche con l'evoluzione di quello che abbiamo acquisito con questa importante cattura. Grazie.